Cambio al vertice della sanità lombarda. Ieri sera nel corso della seduta di giunta, il presidente della regione Lombardia, Tiglio Fontana, ha nominato i nuovi direttori generali che a partire dal 1 gennaio dirigeranno le 8 ATS, le 27 ASST e i 4 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Lombardia, mentre la nomina relativa all'azienda regionale Emergenza Urgenza Reo non era in programma in quanto il contratto scadrà a dicembre 2020. Per il territorio cremonese questo si tradurrà in una serie di novità per l'ospedale di Cremona Oliopò e per quello di Crema. Con il nuovo anno la ASST di Cremona sarà guidata da Giuseppe Rossi in arrivo dall'ATS di Lodi che sostituirà il DG Camillo Rossi. Nuova dirigenza anche all'ospedale di Crema dove avverrà l'avvicendamento tra Luigi Ablondi e il nuovo direttore generale Germano Pellegatta in arrivo dal San Carlo Borromeo di Milano. Nulla di cambiato invece all'ATS Valpadana che unisce i territori di Cremona e Mantua dove è stato riconfermato il dottor Salvatore Mannino.